Torna anche quest'anno con un programma di iniziative che vedono protagonisti i giovani, la rassegna ideata e promossa dall'assessorato alle politiche giovanili del Comune. È la settima edizione del Giugno Giovani, con eventi in tutta la città a partire da oggi e fino al 30 giugno. Il calendario completo è consultabile online sul sito istituzionale. È la settima edizione del Giugno Giovani, una sfida che adesso invece è diventato un appuntamento attesissimo. È un'iniziativa a costo zero per l'amministrazione comunale, ma con grandissima invece ricchezza, valore, perché sono tutti talenti della città di Napoli che in tutti i quartieri, senza escluderle neanche uno, danno vita a iniziative, proprio dove il grande cuore che batte del Giugno Giovani è il protagonismo dei ragazzi e delle ragazze. È la capacità quindi di dire che Napoli è la città più giovane d'Europa, non soltanto con le parole, ma con i fatti, perché il sindaco Luigi dei Magistris e tutta la città di Napoli mette attraverso questa iniziativa il patrimonio giovanile della città al centro di un grande palcoscenico. Presentata questa mattina in Sala Giunta, la manifestazione ha quest'anno come testimonia della giovane cantante Noemi Livieccio e lo scrittore Emanuele Cerullo. Sono contento perché tra l'altro io vengo dalla periferia e con i miei libri ho sempre cercato in qualche modo di rappresentare la periferia a Napoli e non solo perché il ventre di Scampia mi ha consentito appunto di girare un po' per l'Italia. Scampia è il quartiere più giovane di Napoli, dove c'è un alto tasso di dispersione scolastica, però con questi eventi i giovani potranno finalmente partecipare e sentirsi parte comunque di una città. E nell'ambito del Giugno Giovani prendono il via domani presso la tribuna Posillipo del San Paolo le selezioni di 1500 giovani performer che parteciperanno il 3 luglio alla cerimonia di inaugurazione delle universiadi. Parte del Festival Giugno Giovani c'è anche la tappa per le audizioni, per diventare performer per la cerimonia di apertura delle universiadi, che ovviamente sarà il 3 luglio, ma la parte di prove ovviamente per la cerimonia sarà tutta a giugno in una sede qui a Napoli. Cerchiamo performer di ogni genere, persone, ragazzi che sono appassionati di sport, di ballo, di danza e di cultura in generale, per raccontare la cerimonia che è il benvenuto a tutti gli atleti che arriveranno a Napoli per questo grandissimo evento. Basta venire in stadio alla tribuna Posillipo dalle 15 venerdì, sabato e domenica e faremo l'audizione per far in modo che i ragazzi facciano parte della cerimonia.